Ciao a tutti, sono Erika Ceresti, insegnante di canto. Penso che l'avvicinamento al canto sia un percorso bellissimo, senza dubbio sono di parte ma mi sento sempre di consigliarlo perché è un ottimo modo per dare voce a una propria passione quando c'è, oppure scoprire di averlo questo talento, quando anche magari invece sembra insospettabile, uno magari pensa no ho una brutta voce, non posso cantare, mi piacerebbe cantare ma sicuramente non sono in grado, non è vero, non è detto, tutti quanti possono approcciarsi al canto con diversi obiettivi e finalità, la musica chiaramente può illuminare l'esistenza di chiunque e quindi lo strumento, lo studio, lo strumento musicale in questo senso vince sempre. In più il canto è un ottimo modo per conoscere se stessi e fare un percorso dentro se stessi, penso che la voce sia un po' noi al di fuori del nostro corpo, quindi è molto interessante ed è un percorso ricco di spunti quello che avvicina alla propria voce. La lezione si suddivide di solito in due parti, una in cui si fa riscaldamento, vocalizzi che sono mirati a diversi aspetti tecnici in cui appunto si apprendono diversi punti di vista, si affrontano diversi problemi e man mano si va avanti. La seconda metà è un repertorio, quindi si canta finalmente canzoni che abbiano una qualche finalità didattica e che piacciono, quindi concordiamo insieme una canzone da studiare e si prova a lavorare sia sui propri limiti e sia sulle proprie caratteristiche che magari vanno valorizzate, quindi non solo sui limiti perché diventerebbe frustrante e non soltanto su cose troppo semplici che rendono già bene perché se no non si cresce. Detto ciò io spero tanto di vedervi e di avere modo di accompagnarvi in questo viaggio che vi assicura bellissimo.